Io voglio in questo senso anche citare una recensione che mi ha fatto Gianluca Orefice, che è un giornalista della Gazzetta dello Sport, e che ha detto Chiedete ai tifosi del Napoli un ricordo di Maradona. Vedrete che mentre citeranno Scudetti e Coppi gli brilleranno gli occhi. Ecco, dopo chiedetegli di Calderon o Prunier. Le loro reazioni saranno assunti in un vomito, ma reagiranno, si ricorderanno, qui sta il segreto. I bidoni del calcio rimangono nella mente, sono indistruttibili proprio come i rifiuti radioattivi. Questo sito, perché comunque lui parlava del sito Calcio Bidoni, ha colto la loro essenza. Forse non nascerà mai più un altro Maradona, mentre i bidoni sono inesauribili. Avanti il prossimo. Grazie. 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 Grazie.